Oggi è una dichiarazione d'amore Tutte Tutte Sempre dalle 3 alle 5 del mattino Chi sono queste tutte? La macchina è rotta e schedeci lo sto da 50 Ma se io non ho il credito nel telefono, no? I messaggi mi arrivano lo stesso Boh, penso che sì No, perché io ho mandato 28 messaggi da ieri Non ho ricevuto nessuna risposta Sempre 50 so Ma sai qual è il tuo problema? Sentiamo, qual è il mio problema? Che non deponi mai le armi Sistema farmaco pornografico Una donna di 45 anni esce dal mercato sessuale Sta con una, guarda Sta con una È una brutta ricrescita Sta di merda Se vuoi ti prendo appuntamento con Ludwig Parrucchieri È la psichiatra di mia madre E in 5 anni di matrimonio Nemmeno un orgasmo Ma adesso tutte così? Dicono tutte che non vengono più? A me vi piace ancora tanto? Eh, piacerebbe anche a me Lo diceva sempre Ma non t'appoggiare nei locali pubblici Non t'appoggiare Mi prenderò la malattia di qualcuno Che scopa tanto, magari Allora prima che te lo dica qualcun altro Magari te lo dico io Si stanno per sposare Ah sì? È già incinta? Beh, adesso io Questo non so se... Oh! Claudia!